Era stato attirato da questo funghetto che spuntava dal terreno durante una visita in un orto didattico compiuta con i compagni di classe. Peccato che il funghetto, un esemplare di conocibe, oltre a non essere commestibile, contenga due sostanze allucinogene. Il caso è avvenuto nella bassa padovana. Il bambino è stato subito accompagnato nella pediatria dell'ospedale di schiavonia, dove sono intervenuti i micologi del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6. Individuata la specie ingerita, il bambino è stato sottoposto alle terapie adeguate e in seguito dimesso senza alcuno strascico. L'occasione per ribadire come i funghi possono essere potenzialmente letali e ricordare che l'Ulss offre un servizio di analisi gratuito.